Se una mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partito con le tue valigie verso un'altra vita riempirei in meraviglia la città ma forse dopo un po' prenderei ad organizzarmi l'esistenza mi convincerei che posso fare senza chiederei amici con curiosità e mi rendrei da qua cambierei tutte le opinioni e brucierei a foto con nuove convinzioni mi condizionerei forse ringiova direi e comunque ne uscirei non so quando non so come ma se domani mi accorgessi che ci stiamo sopportando e capissi che non stiamo più parlando ti guardassi e non ti conoscessi io io dipingerei di colori muri e stelle sul soffitto di dire le cose che non ho mai detto che pericolo ha la quotidianità e la tranquillità come sei, come vivi detto c'è, c'è sempre sentimento nel tuo parlare piano e nella tua mano c'è la voglia di vivere con quella mano dell'anima Grazie. Grazie.